Una nuova sala ricreativa per i bambini ricoverata nel reparto di pediatria dell'ospedale San Jacopo, tutto grazie a una donazione del distretto Leo Club 108, i giovani del Lions Club della Toscana. Sono molto contento di questa iniziativa e ringrazio i giovani Lions per averla portata a termine. La sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini è una cosa estremamente importante. Da sempre non perdo occasione per ricordare quanto sia fondamentale per la società civile capire il ruolo fondamentale di investire sul benessere dei bambini, sul benessere delle giovani generazioni perché è su queste che si fonderà poi il nostro futuro. Oggi siamo qua per allestire questa sala gioco all'ospedale San Jacopo perché grazie al progetto Leo for Children che è un progetto a livello nazionale che si sviluppa già da tre anni dai leo italiani e questo progetto è mirato a allestire le sale gioco negli ospedali e nei reparti pediatrici che sono meno considerati a livello di pubblicità. E quindi noi abbiamo pensato di allestire una sala qua all'ospedale San Jacopo perché abbiamo visto che ce n'era bisogno e questa è la quarta sala che inauguriamo oggi in Toscana insieme a quella di Arezzo, di Siena e di Lucca. Sono giochi veramente belli, colorati, importanti. Per sottolineare che anche gli ospedali come il San Jacopo di Pistoia hanno un ruolo importante nella vita dei bambini, limitato se Dio vuole perché chiaramente qui vengono bimbi che hanno problematiche però è importante che nel momento in cui vengono nel nostro ospedale trovino dei luoghi così accoglienti.